Il titolo potrebbe essere come rendere facile una partita difficile. Il tabellone recita 98 a 74 per gli Herons e sembrerebbe tutto facile anche sul 62 a 36 a metà partita, ma per arrivare qui i ragazzi di Barzotti e Carlotti hanno costruito su una difesa ferrea, su un attacco dove la palla girava e quindi hanno costretto molto in fretta, va di serve, a trovare cattive soluzioni al tiro, a buttare via dei palloni. Errori gratuiti come direbbero nel tennis e quindi la partita ha preso un'inerzia che Montecatini ha mantenuto per tutti e 40 minuti, il che ha permesso alla formazione di Barzotti di ruotare tutti i giocatori e di non forzare nessun minutaggio. Questo in ottica di un'altra settimana di 10 giorni dove giocheranno altre tre partite, ma intanto con la vittoria a Valdisievi Montecatini torna prima con l'altra Montecatini. Questo dice il calendario, tre partite da recuperare per entrambe, però rimanere primi è sempre una bella cosa. Sapevamo che dovevamo fare una gara ad altissimo ritmo e non è facile avere la forza mentale, venire su un campo come questo e imporre ritmo. Siamo stati bravi a farlo e diciamo che la prima parte della gara è stata decisiva per indirizzare la partita. Se impostiamo su questi campi la gara al nostro ritmo senza adeguarsi al ritmo degli avversari di sicuro diventa più facile per il gioco che vogliamo esprimere. La squadra si trova molto bene in attacco, la palla circola bene, c'è sempre un extra pass per un montino, ma tutto nasce da dietro dove c'è grande lavoro difensivo di squadra. Sappiamo che difendere bene ci può creare situazioni di corsa, di ripartenza per esaltare le caratteristiche tecniche e fisiche dei nostri giocatori e per creare tiri ad alta percentuale. Quando riusciamo a farlo si vede, credo sia anche godibile il gioco anche per chi vede la partita da fuori, poi è anche efficace alla lunga e è il modo secondo me migliore per esaltare le qualità di una squadra che abbiamo costruito anche con questo fine.